ok ok qua si ferma e qua facciamo così perfetto ok e qua quindi ci siamo abbiamo fatto ciò che dovevamo fare molto bene quindi qua è spento e qua è aperto qua poi bisogna cambiare anche questo esatto con smart chute esatto e deve essere dust ok filter scroll che sarebbe no no è finito va bene ok e quando è così che cosa fa quando è così ma puoi levarti dalle scatole puoi levarti grazie mi rompi le scatole che sto facendo cose al momento non mi interessano i tuoi drop marci che dai e adesso allora fermi tutti allora attiviamo un attimino questo impianto quindi qua no tac tac per poco ok basta già due due già bastano ok così spento cosa fai droppi o non droppi spento ok mentre sei spento droppi perfetto quindi tu devi lavorare insieme a questo ok va bene va bene ok easy perché basta fare così allora giusto teoria così facciamo così qua possiamo fare questa vabbè possiamo fare così però esatto non grave no non grave è vero non è grave la situazione non è grave perché basta fare così ok perfetto quindi tu adesso se ti riattivo tu non droppi niente giusto ah non assorbi neanche ok va bene va bene ci sta mi piace l'idea ok ok tu non assorbi una volta che sei attivo va bene va bene ok ok perfetto tu sei nanananananana tac e qua ci siamo qua sotto dobbiamo fare adesso questa cosa qua in realtà ah qua mettiamo sta ceste qua che sganciamo assolutamente da qua fulmine ok adesso c'ho in mano anche la dirt va bene ok e qua facciamo così non ci bastano però questi vero eh no mi sa proprio di no assolutamente no ok quindi vabbè facciamo facciamo anche altri di dove che ho messo ah ce l'ho in mano possiamo lasciarla piazzata questo macchinario che tanto ci serve no è troppo complicato ma ma rompiti ma non verso l'alto verso di qua devi metterti oh bravo e va bene ta 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 qua serve della della avete capito questa roba qua questo impianto non funzionerà bene già lo so già 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 lo sapete anche voi ma d'altronde è così non abbiamo alternative signori cioè magari abbiamo alternative ma no no va bene così ok qua queste ta ta bisogna fare poi i i mi aiuto mi sono perso i questi osmium ok facciamo due si servono anche due steel quindi uno due uno due ok droppiamo un po di roba qua perché questo via questo via ok grazie ok quindi qua in realtà praticamente ci siamo quindi due qua mettiamo dentro ta 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 tec tac ok qua abbiamo la nostra cosa che sta craftando ok ok qua dobbiamo mettere un'altra cosa che è semplicemente un altro hopper che abbiamo già in mano perfetto abbiamo un altro hopper che però che però ok qua ce lo droppa così va bene questo lo mettiamo qua uh sta glitchando tutto avete visto il glitchino ok 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 opper perfetto e quindi qua siamo tranquilli in realtà ok poi qua mettiamo sotto questo che è già attaccato ah ah aspetta però è vero che è già attaccato ma tu devi assorbire altrimenti non funziona quindi te ti modifico pull ok perfetto stiamo facendo una cosa complicatissima signori che probabilmente vi giuro poi pensando ci sarà stra semplice come fare quello che è semplicissimo ne sono certo tuttavia va bene va bene anche se è così complicato è sempre esperienza signori una volta che l'abbiamo capito poi non rifaremo più questo errore semplicemente i miei quattro pezzi di steel sono ancora qua per terra vero ehm non voglio saperlo mi è sparito lo steel non so se avete notato se mi è sparito dalle mani lo steel vabbè non ci pensiamo va bene ne faremo ne faremo dell'altro non è importante fa niente ok non è che l'ho buttato dentro qua per sbaglio no è sparito semplicemente va bene ok mi fa piacere ok e qua in realtà la parte easy è fatta perchè qua la roba esce entra qua e arriva in questa cesta perfetto e quindi qua ci siamo ora che cosa allora dobbiamo fare una cosa in realtà complicatina complicatina no però eh repeater mi servono repeater repeater pulse repeater che roba è no questo è un redstone clock come si crafta fa ma aspetta si può anche fargli fare il pulso più lungo a short pulse a short pulse the time ok shortissimo però pulse vabbè però in realtà no perchè non va bene perchè deve rimanere attivo in realtà quindi no eh è errato vabbè sarebbe quello ma non non cioè sarebbe da configurare non solo quanto tempo ci mette ma anche quanto tempo dura il il pulso diciamo quindi va bene fino a un certo punto craftiamo sti cosi qua quanta redstone che stiamo consumando allora e tra l'altro mi sa che non non riusciamo neanche a fare quello che vogliamo fare perchè perchè secondo me no secondo me non secondo me no secondo me non va bene però vabbè nel senso ok usiamo le scale tanto che se ne frega ok qua ti attivi qua beh possiamo mettergli ancora una un po' di delay si mettiamogli ancora un po' di delay giusto per sicurezza ma tanto in realtà cioè funzionerà ma funzionerà molto male questa cosa però vabbè più o meno più o meno funzionerà quindi l'importante in realtà è quello allora attiviamo l'impianto perfetto si sgancia tutto nell'attivarsi ottimo quindi ah ah tu funzioni così ah ok ok eh però in realtà non è proprio quello che mi si arriva vabbè però in realtà anche così va bene anche così può andare bene no anche così mi può andare bene in realtà ok vediamo però non sta ah si non sta funzionando perchè qua non li ho rimesso ok push ok così funziona vero si si ok vabbè così in realtà cioè l'impianto come vedete signori così l'impianto funziona lui droppa dentro le sue cose però vedete il punto è che è veramente lento a trasformare le robe quindi va bene bellissimo ok facciamo che adesso deve collezionare le cose ok si disabilita ok perfetto bello ha preso la roba ma a parte che l'ha droppata fuori quindi questo qua non questo qua deve essere modificato però vabbè ok l'ha droppata fuori ma questo basta fare così e lo risolviamo subito ok lì sotto non si è attaccato ok questo qua lo risolviamo subito facendo così bello bellissimo funziona tuttavia vedete lui lo assorbe però tuttavia assorbe anche roba che non dovrebbe assorbire tipo la dust tipo la dust che finisce qua dentro detto questo si potrebbe rifare un si potrebbe mettere un vabbè più o meno può andare bene in realtà più o meno va bene perché tanto lasciamolo andare un momento che mi farma un po' di che mi farma un po' di redstone più o meno può andare bene perché tanto alla fine qua qua può fare un logistix questo uno di questi può farne che si fa con basic control circuit quindi semplicissimo in realtà quindi lo facciamo ehm iron ingot ehm basic eh si fa mi sono dimenticato come si faceva scusatemi mi è venuto un un vuoto totale di memoria si fa così ok quindi si fa dai ehm iron ce l'abbiamo non l'abbiamo a cobblestone abbiamo la cobblestone tech uno stack di cobblestone ok e qua in realtà sta andando quindi qua mi fai due di questi con un osmium hai un po' di energia non tanta ma c'è ok stop perché l'idea in realtà funziona l'unica roba cioè perché vedete lui bam assorbe tutto perfetto l'unica roba è che raccoglie anche la dust cosa che invece non dovrebbe fare però beh questo eh non è non si può fare molto diciamo più che altro perché cioè no si potrebbe fare basterebbe fare lunghissimo il tempo di attesa di questo in realtà in realtà basterebbe cioè sì perché vedete quanto tempo ci mette arrivare però in realtà questo qua è istantaneo quindi volendo si potrebbe fare si potrebbe fare davvero il fatto di perché tanto cioè comunque è tanto ma non è tantissimo il tempo da aspettare quindi proviamo a davvero mettere facciamo un tanto uno di questi che questo qua serve per forza anzi no non è vero se riusciamo a farlo corretto in realtà non serve però anzi craftiamo lo stesso tanto questo qua prima o poi serve comunque craftiamone uno giusto per perché se questo qua in realtà lo mettiamo qua in mezzo però ha più senso in realtà che lo faccia corretto cioè questo qua lo mettiamo lo stesso in caso di errore direi però ha comunque più senso che lo faccia da solo secondo me allora questo qua coloriamolo di blu ok si poi adesso c'è sta roba qua vabbè ok questa roba qua è blu quindi può entrare non è non è splendida eh questa cosa però però vabbè ok qua mettiamo questo ok qui mettiamo to ok come nuovo filtro item no 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 nuovo filtro item stack questo color blu allo default no size mode no off vai salva ok vedete questo qua praticamente tira su questi blocchi e li lancia qua dentro bello interessante ma cioè li ritiene qua dentro poi una volta che noi interrompiamo il flusso cosa succede vediamo cosa succede ok lui li ha ripresi ok ah rimangono per sempre incastrati qua perfetto ok interessante ok non è propriamente ma rimangono qua cioè se rimangono qua per sempre a saltellare in giro va anche bene non è grave più che altro è che adesso poi qua nel riattivarlo esatto questo me li lancia fuori tutti va bene quindi la cesta qua in realtà rimane sempre vuota volendo il punto è che questa roba qua è veramente lento cioè quanto tempo ci mette a pulire gli oggetti però in realtà qua li droppa fuori si li droppa fuori li si li droppa fuori in realtà ci sono questi oggetti qua persi lì dentro che non usciranno mai ma vabbè facciamo ritornare qua un secondo perché ci sono quelli sti qua senza colore che si stanno allora perché facciamo intanto tiriamo fuori un po' di fermati comunque così non è bello ma funziona diciamo dai quindi lo posso accettare cioè il fatto che funzioni così non perfettamente ma più o lo posso accettare ripeto non è non è così male potrebbe essere molto peggio ripeter ripi ripeter ok serve un sticks diciamo sticks sticks così 7 attiva perché vedete perché lui in realtà poveretto lui funziona cioè come idea lui funziona devo togliere questi qua però perché incasinano tutto purtroppo vediamo ok grazie ce n'è ancora uno questo ok vediamo se ce la facciamo sì basta non ce ne sono più in teoria no bloccati dentro teoricamente no teoricamente no ok vediamo sì non è ripeto la cosa migliore è l'absorption perché appena possiamo farlo lo facciamo rimuoviamo tutto questo schifo qua perché basta dirgli non raccogliere item filter non raccogliere la dust semplicissimo quindi cioè con quello non puoi sbagliare detto questo vabbè anche così funziona ora lo facciamo lungo fino a qua in fondo che vediamo se ce la facciamo così è troppo rapido beh che ma anche così non mi interessa cioè facciamolo facciamo che va bene così dai tanto tanto qua guardate quanta roba che rimane bloccata bloccata nei tubi quindi rimane comunque dentro un sacco di roba vabbè intanto questi qua li mettiamo anzi mettiamo dai lo stesso tanto ripeto non ci interessa in realtà facciamo finta di fare una cosa che funziona anche se non è così vabbè fare finta non si sbaglia mai allora poi bisogna fare poi dobbiamo fare anche redstone clock bisogna fare che adesso lo facciamo allora redstone clock che in realtà redstone clock che in realtà possiamo fare qua così perché deve durare però in realtà deve durare tanto non è vero perché deve durare tanto sapete che sono in dubbio un attimo perché deve durare tanto ma deve durare tanto solo facciamo altro resto sono momentaneamente confuso cioè perché sto facendo un errore molto probabilmente è sbagliato come sto pensando di fare comunque va bene e lo faremo così ugualmente ah ho buttato dentro della dust ok perché questo qua in realtà funziona spara gli oggetti e rispara dove dovevano andare quindi funzionare lui funziona il punto è che potrà funziona ma dovrei metterne dovrei mettere un altro di questi in parte qua tipo dove entrano solo gli oggetti da qua volendo e volendo fare correttamente perché vedete se qua si ferma cioè comunque non ce la fa gli servirebbe molto più lungo questo qua quanta red 5 red non solo lasciamo andare di più ancora ancora di più ah ma tra l'altro ah gli arriva dentro c'è anche questo difetto qua in realtà no no ma così non può funzionare però cioè così non può funzionare deve essere lunghissimo il tempo del clock giusto semplicemente perché dura tanto e basta però non ce non può così così come lo sto facendo non va bene dobbiamo fare un clock lunghissimo semplicemente quindi va bene vabbè lo possiamo fare qua in realtà lo possiamo fare qua e questo lo facciamo girare qua anzi no addirittura facciamo così tanto non è grave stop ops ho rotto qualcosa vero si ok quello non è stato buono allora questo deve essere tolto perfetto sì molto bene quindi tu ti rimuovi quanta redstone abbiamo solo 4 va bene ne abbiamo 19 ne abbiamo un botto in realtà redstone ok ah non abbiamo più sticks andiamo a prendere altri sticks andiamo qua a prendere altri sticks grazie ma in teoria si ripeto cioè la cosa fatta così non è che mi piace però non vedo troppi altri modi in realtà quindi ah serve più redstone ancora più redstone serve via ok e beh qua semplicemente facciamo il classico coso classico coso che è blocchetto giusto sì qua meno male che volevo fare la porta cioè non so se vi ricordate proprio all'inizio che ho detto ah voglio fare la porta sì come no ok e qua semplicemente no così però non va bene no così qua non va bene aspetta però così invece sì vero no mi sto complicando semplicemente perché non l'ho fatto rotondo vi rendete conto ok sì così va bene allora perché in realtà qua vabbè a questo punto qua possiamo fare semplicemente così allora mettiamo la torcella di redstone qua esatto ok quindi togliamo questo sì è brutto è molto brutto sono d'accordo però d'altronde d'altronde così è e così deve essere redstone ok anche qua possiamo fare un altro po' di di movimentazione tipo così no no non possiamo no non possiamo farlo va bene ok teoricamente così bam esatto così si carica così si attiva esatto si gira si disazzima tempo che parte l'impianto però è già chiuso oppure questo non ci deve essere molto semplice questa parte qua non ci deve essere sì non è abbastanza non è abbastanza lento vero sto notando anch'io che non è abbastanza lento sto notando che non è abbastanza lento signore no droppa solo questo non va bene vedete vedete che non droppa nessun materiale dura troppo poco dura troppo poco semplicemente non è tra l'altro così adesso perché si è sballato tutto adesso ah no ok adesso si è ripreso non va bene però così aspetta però vedete se tu servi ok bisogna farlo beh più lungo in realtà basta farlo basta farlo più lungo perché basta che qua sia così volendo no basta che sia così ma no non è vero sto pensando qua la roba arriva ah no si si basta che sia così in realtà basta che sia qua che arrivi la roba quindi qua così giusto si forse non lo so signori sto sto perdendo pezzi sto perdendo ok qua ci serve un po' di torcia in teoria un po' di repeater però comunque ma si ma tanto questa roba qua non funziona l'ho capito anch'io cioè nel senso voglio solo farla partire in qualche modo anche se in realtà così è sbagliato lo capisco perfettamente anch'io non serve che lo dite lo so e lo vedo che ho sbagliato purtroppo al momento non ho troppe alternative ma tra l'altro ma tra l'altro viene comunque assorbito a volte vedete che alle volte lo assorbe comunque anche se non avrebbe motivo ma vabbè 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 va bene ok ok non ho capito ah ho finito anche la stone perfetto bisogna usare la nostra super furnais bisogna usare la nostra super furnai eccola qua super furnai che cuoce tutti gli stone blocks ok 16 bastano per ora si comunque funziona in modo brutto cioè no no così assolutamente non va bene adesso adesso la facciamo la facciamo andare ma ci penso un attimo a come risolvere la situazione ovviamente anche voi se sapete un modo molto più semplice per fare tutto questo i consigli sono i benvenuti i consigli sono certamente i benvenuti visto che effettivamente è ripeto una roba mega semplice ma che non stiamo riuscendo a fare quindi quindi yay però qua ci stiamo in realtà incastrando perché qua qua come fa facciamo che lasciamo stare questi non possono più diventare reston normale stiamo sprecando tonnellate di reston per fare sti che non servono a niente facciamo che guardate cosa facciamo al momento sarà manuale va bene tanto funziona tanto così in manuale funziona al momento manuale e poi ci pensiamo perché non so sinceramente non so non ho troppe idee ripeto signori mi serve il vostro aiuto devo cloccare questa cosa non è che devo cloccare devo fare in modo che non assorba la dust è tutto molto semplice non mi deve assorbire la dust l'unico modo che io sappia in cui si può fare è con l'absorption hopper perché gli puoi dire nella blacklist questo è in blacklist non lo raccogliere e infatti lui non lo raccoglie il punto è che serve la blaze powder quindi voi datemi consigli altrimenti io comunque già per il prossimo episodio arrivo ai mille blocchi di distanza che servono per poter entrare nel nel nether in modo da poter beccare qualche spawner dei blaze e prendere delle blaze droves semplicemente quindi io quello lo faccio in ogni caso se voi conoscete un modo migliore benvenuti cioè perché magari davvero ripeto questa roba qua è probabilmente iper super mega semplice sono solo io che mi sto incastrando per qualche motivo quindi signori da joshiklacson10 è tutto vi ricorda mettere un bel mi piace se vi è piaciuto iscrivetevi al canale se avete ancora fatto e noi ci vediamo direttamente al prossimo episodio della stone block 3 quindi signori ciao iscrivetevi al canale